Musica Buongiorno a tutti i spettatori di Rete Veneta, benvenuti a Linea Diretta a questa nuova puntata. Oggi l'abbiamo dedicata al cuore. Abbiamo qui ospito in studio con noi il professor Gino Gerosa, che è direttore del centro di cardiochirurgia Gallucci di Padova. E' uno dei più importanti chirurghi che possiamo vantare per quanto riguarda l'Italia, il nostro ospedale. Professore, volevo parlare con lei di questo intervento che è stato fatto qualche mese fa, ci dicevamo prima, è stato reso noto pochi giorni fa, ed è questo primo trapianto al mondo di un mini cuore artificiale su un giovane già trapiantato. Ci vuole raccontare di che cosa si tratta, ovviamente in termini molto semplici per farci capire da tutti, e a chi è diretto questo tipo di intervento. Allora, l'intervento a cui fare riferimento è un vero e proprio trapianto di cuore, con la differenza che nel trapianto come inteso genericamente viene trapiantato un cuore biologico, un cuore umano. In questo caso è stato trapiantato un cuore meccanico. Fortunatamente per il paziente, attualmente c'è un solo cuore meccanico disponibile al mondo, che ha delle dimensioni abbastanza cospicue, e quindi le donne o i giovani adolescenti non potevano essere candidati a questo tipo di intervento, ma alcuni mesi fa Sincardia, che è l'azienda americana produttrice, è uscito con un nuovo modello più piccolo, da 50 cc piuttosto che 70 cc, e quindi questo ha permesso l'impianto anche in un paziente con le dimensioni della gabbia toracica di un giovane adolescente, di una donna. Quindi più pazienti potranno giovarsi nel futuro di questa opzione terapeutica. Perché è stato fatto questo tipo di trapianto a questo ragazzo? Il ragazzo era stato trapiantato di cuore all'età di 12 anni e nel proseguo del follow-up ha sviluppato un linfoma, che è un tumore conseguente alla terapia immunosoppressiva. Sottoposto a dei cicli di chemioterapia in un altro ospedale, non era stato trapiantato a Padova, ma a Pavia, i cicli di chemioterapia hanno danneggiato in maniera irreversibile il cuore trapiantato. A quel punto la sopravvivenza del paziente era garantita dall'ECMO, che è una macchina, una pompa che viene posta esternamente al cuore, che sostituisce la funzione cardiaca, ma che può essere mantenuta per un periodo variabile tra i 10-15 giorni, dopo naturalmente non è più utilizzabile. E quindi l'unica risposta terapeutica, l'ultima freccia che c'era rimasta nella farete delle scelte terapeuti di questo paziente, era la possibilità non di fare un nuovo trapianto per la presenza dell'infoma, ma di sostituire il cuore trapiantato danneggiato con un cuore meccanico, che quindi non necessitava della terapia immunosoppressiva. E come sta adesso questo ragazzo? Il ragazzo direi che sta discretamente bene, è stato dimesso dall'ospedale, tra l'altro la sospensione della terapia immunosoppressiva ha permesso la regressione dell'infoma, quindi in questo momento la situazione è sufficientemente rosa. È chiaro che i mesi successivi, il tempo a venire, naturalmente ci darà delle risposte. E per lui quale sarà il prossimo passo? Cioè come viene curato, visto il follow-up nei prossimi mesi? Beh, nei prossimi mesi sarà seguito naturalmente con una terapia anticoagulante, antiaggregante, specifica per il cuore meccanico. Perché il cuore meccanico, a differenza di un cuore biologico, non determina una reazione di rigetto, quindi non necessita di terapia immunosoppressiva, però necessita di terapia anticoagulante, perché le superfici interne del cuore meccanico naturalmente hanno una biocompatibilità non ottimale. Però ha un grosso pregio che, potendo sospendere la terapia immunosoppressiva, questo ha determinato la regressione dell'infoma, e quindi valuteremo tra qualche anno la possibilità di un retrapianto o di che cosa la tecnologia ci metterà a disposizione a quell'epoca. Ecco, a proposito di tecnologia, è possibile, secondo lei, ipotizzare che in un prossimo futuro si possa trapiantare addirittura un cuore meccanico? Cioè non avere più bisogno di trapianti? È troppo preso? Questa è un'eccellente domanda, perché il cuore artificiale che abbiamo a disposizione oggi è inteso come ponte al trapianto cardiaco. Quindi non come terapia sostitutiva, definitiva al trapianto cardiaco. Questo perché è un conto quando parliamo di sopravvivenza dei pazienti e un conto quando parliamo di qualità di vita che dobbiamo garantire al nostro paziente. Quindi abbiamo bisogno di cuori artificiali un pochino più sofisticati, che abbiano una biocompatibilità migliore, quindi possano richiedere una minor terapia anticoagulante e naturalmente che abbiano un'alimentazione di tipo elettrico piuttosto che pneumatico, come il cuore artificiale attualmente disponibile, che è abbastanza rumoroso e quindi il sogno del prossimo futuro dal punto di vista della tecnologia è un cuore che sia più biocompatibile e quindi più, per dire all'anglossal, sono più friendly, più amico del nostro sistema globale, in modo tale che non necessiti terapia anticoagulante e soprattutto più silenzioso, più piccolo e con la possibilità di permettere una qualità di vita al paziente a cui viene impiantato sicuramente più vicina alla qualità di vita alla quale siamo abituati. Quanti anni ci vorranno, secondo lei, per riuscire a raggiungere questo risultato? Ci vorranno almeno altri 5-10 anni. Quindi insomma, almeno per i ragazzini, i bambini che cominciano ad avere i primi problemi cardiaci che in futuro si può proiettare o pensare ad un trapianto, c'è una speranza che sia più facile per loro? Sicuramente la tecnologia sta lavorando in questo senso, anche perché abbiamo un altro ordine di problemi non indifferenti, il fatto che i pazienti con scompenso cardiaco non più responsivo a terapia medica ottimale necessitano il trapianto cardiaco. E fortunatamente, devo dire, la legge sul casco ha fatto sì che si è modificato oggi il profilo del donatore di organi. Una volta erano dei ragazzini giovani di 16, 18, 20 anni che andavano incontro a uno stupido incidente motociclistico, battevano la testa sul selciato, sull'asfalto e andavano incontro a morta cerebrale. La legge sul casco, seriamente applicata, ha praticamente fatto scomparire questo tipo di donatore, grazie a Dio. Quindi oggi il donatore è un mio coetaneo, un 50-55enne, che muore per ischemia cerebrale o per emorragia cerebrale. È chiaro che un paziente che sviluppa un'emorragia cerebrale piuttosto che un'ischemia cerebrale, è un paziente che avrà dei fattori di rischio, il diabete piuttosto che l'ipertensione, che se non impattano negativamente altri organi, in cui il rene, il fegato, il polmone, impattano negativamente l'organo cuore. Quindi oggi abbiamo meno cuori disponibili per il trapianto cardiaco. Quindi la ricerca sta andando proprio nella direzione di realizzarlo in modo del tutto artificiale, insomma. Già oggi ci sono a disposizione dei sistemi che vengono chiamati all'interno del grande capitolo dei sistemi di assistenza meccanica, dobbiamo distinguere tra VAD e cuore artificiale totale. Mi permetta questa distinzione, perché arrivi un po' agli telespettatori delle idee. I VAD sono i cosiddetti sistemi di assistenza ventricolare, sono delle pompe miniaturizzate che vengono inserite all'interno del ventricolo sinistro e sostituiscono, aiutano il ventricolo sinistro. Però in alcuni pazienti entrambi i ventricoli sono disfunzionati, sia il ventricolo sinistro che il ventricolo destro. Quindi con il VAD noi possiamo assistere il ventricolo sinistro, ma il ventricolo destro del paziente deve funzionare bene. Qualora entrambi i ventricoli non funzionino bene, a questo punto bisogna sostituire integralmente il cuore e sostituirlo con un cuore artificiale totale. Quindi tornando alla sua domanda, è chiaro che se riusciamo a sviluppare un cuore artificiale totale che possa essere lì a disposizione in sala operatoria su uno scaffale nel momento in cui ci serve, non dovremo attendere un donatore, quindi la terapia per questi pazienti diventerebbe molto più sollecita, solerte e accettabile. Quanti pazienti ci sono al momento ricoverati? Possiamo dare un numero che lei sta valutando di poter operare. No, le do dei dati nazionali, che forse è più corretto, diciamo che a livello nazionale, ma tutti potete avere accesso, se entrate, oggi tutti quanti siamo dei grandi navigatori in internet, se entrate nel CNT, il Centro Nazionale dei Trapianti, ci sono tutti i dati a livello nazionale, ci sono circa 800 pazienti in lista d'attesa per trapianto, con una mortalità che è intorno all'8%, cioè di pazienti che non riescono ad arrivare al trapianto, e quindi questi sono i pazienti che dobbiamo andare ad aiutare con questi sistemi di assistenza, perché i trapianti che oggi si riescono ad eseguire in Italia, quindi su tutto il territorio nazionale, sono attorno ai 200-250 trapianti all'anno. Se pensate che sono circa 800 i pazienti in lista di attesa, vedete che parliamo di diverse centinaia di pazienti. Le faccio un po' un discorso terra-terra, parlando proprio con la voce del popolo. Io immagino che ci siano pazienti che si ammalano, che hanno malformazioni congenite, quindi nascono con dei cuori malformati, insomma, che hanno difficoltà a funzionare, però c'è molta altra gente che si ammala di cuore, con stili di vita che non sono adatti, ovviamente, al nostro fisico. Per questa seconda categoria, che è quella sulla quale si può influire, insomma, con dei buoni consigli, e delle buone pratiche, valgono ancora gli stessi consigli? Mangiare bene, prendersi cura di se stessi? Allora, tocca un punto importante, nel senso che in realtà la grande quota di pazienti che necessitano del trapianto cardietico, piuttosto che di un'assistenza meccanica al circolo, oggi sono pazienti che hanno sviluppato successivamente una malattia e soprattutto una cardiomiopatia dilatativa post-ischemica. Cosa vuol dire questo? Conseguente all'infarto miocardico. E questo per due ordini di motivi. Uno, perché fortunatamente più pazienti sopravvivono all'evento infartuale e poi l'invecchiamento della popolazione, cioè la popolazione vive più a lungo, la sinergia tra questi due momenti, più pazienti sopravvivono all'infarto, e l'invecchiamento della popolazione fa sì che molti più pazienti arrivano all'età di 50-60 anni con una insufficienza cardiaca conseguente al precedente infarto. Quindi, per rispondere alla sua domanda, è chiaro che corretti stili di vita, quindi un'alimentazione adeguata, soprattutto l'attività fisica, il controllo dei fattori di rischio, non fumare, prestare attenzione a condizioni quali il diabete piuttosto che allipire colesterolemia, sicuramente allontanano il rischio infarto, perché nel momento in cui questo dovesse accadere, è vero che più pazienti sopravvivono all'evento infartuale, ma successivamente, a distanza di tempo, non possono presentarsi con uno scompenso cardiaco non gestibile con terapia medica. Ecco, penso che il problema sia spesso questo, la tecnologia e la ricerca hanno fatto passi avanti insperabili, impensabili negli ultimi anni e la maggior parte della gente tende a dire intanto comunque una cura si trova, una mano me la danno, qualcosa succede, loro sono bravi e io continuo a mangiare, fumare e a fare una vita sedentaria. Lei dice invece che una vita in movimento, insomma, prendersi cura di noi stessi, ha comunque un valore specifico importante. Potrei parafrasare un vecchio proverbio che diceva aiutati che il Cielo ti aiuta, io direi aiutati che il sistema ti aiuta, nel senso che il sistema sanitario nazionale ti aiuta perché ti mette a disposizione farmaci, nuove tecnologie, ma sicuramente il momento fondamentale è lavorare su noi stessi e quindi sui nostri stili di vita. Un altro tipo di lavoro, quello del ricercatore, immagino che tra i chirurghi che operano e i ricercatori, cioè il rapporto sia interconnesso e sia, vi sentiate, insomma, abbiate un rapporto di scambio, di carte, insomma, di informazioni. La ricerca italiana, da questo punto di vista, per quanto riguarda il cuore, come sta andando? Ho sentito prima che lei diceva che questi nuovi macchinari sono americani, no? Allora, la ricerca italiana sicuramente si colloca ai primi posti, però qua rispondo per la ricerca padovana e per la ricerca sviluppata dal mio gruppo, perché da sempre ho avuto un'attenzione quasi maniacale alla ricerca, perché sono una persona molto curiosa, con discreta fantasia e per essere un buon ricercatore bisogna essere curiosi e avere fantasia. e quindi il laboratorio all'interno del nostro gruppo di cardiochirurgia che si occupa di medicina rigenerativa non si occupa solamente di mettere a punto nuove tecnologie che rendano dei tessuti, come dire, più facilmente utilizzabili nella terapia delle malattie cardiache, ma anche sviluppare un cuore artificiale totale italiano. Questo è un progetto che stiamo perseguendo da alcuni anni, un progetto sicuramente ambizioso, estremamente ambizioso, che necessita di finanziamenti e quindi qua ne approfitto per chi mi ascolta di ricordare che la ricerca ha bisogno di finanziamenti, però qualche passo in avanti l'abbiamo fatto e spero che quando parlavo di questi prossimi 5-10 anni noi si possa essere degli attori protagonisti nello sviluppare un cuore artificiale totale italiano. Ecco, abbiamo parlato ovviamente dell'ospedale di Padova, siamo qui chiaramente per parlarne bene. Come siamo collocati a livello europeo, mondiale, insomma, rispetto a questo tipo di ricerche? Noi a che punto siamo? Beh, per quanto riguarda la medicina rigenerativa, quindi lo sviluppo ad esempio di omoraf decellularizzati, recentemente avevamo donato alla banca... Che sono, spieghiamo un attimo. Sono delle valvole a cui è stato tolto tutto il patrimonio cellulare per renderle più durevoli nel tempo. Allora, per quanto riguarda sia questa parte della ricerca del gruppo di medicina, del laboratorio di medicina rigenerativa della cardiochirurgia, tecnologia che ricordavo prima abbiamo donato alla banca degli omoraf di Treviso, tant'è che il presidente Zaia ci aveva premiato con una targa, proprio come ringraziamento della regione alla donazione di questa tecnologia a un'altra istituzione sanitaria della regione stessa. Stiamo portando avanti tutta una serie di progetti, tra cui, di nuovo cito il cuore artificiale totale, tra cui un progetto quello più ambizionale, però siamo ancora agli inizi, che è quello di decellularizzare un cuore in toto per poi cercare di ripopolarlo con le cellule dei pazienti, ma qua stiamo parlando un pochino di fantascienza, non vorrei generare assolutamente falsi, come dire, aspettative, e quindi spero di poterne parlare tra qualche anno, ma tutto questo rientra all'interno della ricerca che si chiama ricerca traslazionale, cioè di riuscire a trasferire il prodotto della ricerca dal laboratorio al letto del paziente. La ricerca traslazionale è estremamente importante perché non è una ricerca che, seppur interessante, interessatissima, resta fine a se stessa, ma trova, come dire, la sua piena applicazione poi in ambito clinico. E sulla ricerca traslazionale, come cardiofirurgia di Padova, siamo fortemente impegnati. E la sua squadra com'è composta? Sono ragazzi giovani, ricercatori? È una squadra relativamente giovane per quanto riguarda i cardiochirurghi, è una squadra sicuramente giovane per quanto riguarda il laboratorio di ricerca. Quanti sono? Quanti siete? Beh, tra cardiochirurghi formati e in formazione siamo circa una trentina di professionisti, in più c'è un laboratorio di ricerca con una decina tra biologi, borsisti, dottorandi di ricerca che vengono anche dall'estero, il laboratorio di ricerca è al VIM, al Venezia Instituto Molecular Medicine e quindi è una squadra molto ricca, molto variegata e sicuramente molto molto motivata. Sono motivati, sì. Beh, questo è ovviamente da sperarlo per tutti quelli che ci ascoltano che magari hanno problemi di cuore. Ecco, parlando un attimo dei pazienti, come si approcciano? Cioè, come... chi sono? Il carattere? Come si approcciano loro? Quando gli si dice dobbiamo fare un intervento al cuore, in questo modo non si può più andare avanti. Qual è il tipo di approccio? Arriva il chirurgo e gli parla? Sono assistiti da qualcuno che li prepara? Il cardiochirurgo è, come dire, l'ultima stazione di arrivo, l'ultimo tassello, come giustamente dice lei. Naturalmente ci sono pazienti che sono stati seguiti dai cardiologi in fase di diagnostica preoperatoria, però in genere io dico ai pazienti di essere estremamente ottimisti perché la cardiochirurgia è chiaro che dire a un paziente che deve operarsi al cuore non è una passeggiata perché è un grosso intervento, fortunatamente nonostante il fatto che sia un grosso intervento bisogna a volte utilizzare la circolazione estracorporea anche se stiamo cercando di sviluppare interventi che non richiedano più l'utilizzo della circolazione estracorporea e quindi la necessità di fermare il cuore ma fare gli interventi cosiddetti a cuore battente senza l'utilizzo della circolazione estracorporea dico nonostante siano grossi interventi la mortalità e le complicanze sono fortunatamente molto bassa questo è grazie all'expertise dei chirurghi e alle tecnologie che abbiamo a disposizione e quindi dico sempre ai pazienti di essere sempre estremamente ottimisti perché in cardiochirurgia che tu abbia un problema valvolare che abbia un problema che interessi le coronarie o che interessa la funzione di pompa del cuore una soluzione nella gran parte delle malattie cardiache si può trovare cosa che ad esempio in altri tipi di chirurgia pensiamo a chirurgia oncologica questo non c'è quindi ecco la parte positiva dell'intervento cardiochirurgico che molto spesso sia che si esegue un intervento riparativo o un intervento sostitutivo è un intervento comunque terapeutico in maniera sostanziale che può risolvere che migliora non solo la sopravvivenza ma soprattutto la qualità di vita del paziente immagino che lei abbia alcuni pazienti anche piccoli bambini piccoli si occupate anche di bambini a Padova ci sono due programmi di cardiochirurgia c'è un programma di cardiochirurgia chiamiamola così generalista dell'adulto che prevede anche il trapianto cardiaco e il sistema di assistenza di assistenza meccanica di direttore me poi c'è un programma specifico che è diretto dal professor Stellin che ha uno suo team che si occupa specificatamente dei pazienti pediatrici ma oggi c'è un altro gruppo di pazienti che sta incrementando dal punto di vista numerico in maniera importante che sono i cosiddetti GUCC che sono un acronimo anglosasso per GROWN UP congenital disease cioè sono i pazienti cardiopatici congeniti adulti cioè pazienti che sono stati trattati per cardiopatie congenite in età pediatrica e che poi sono cresciuti si presentano con altre problematiche con altre patologie e qui è importante il fatto che a Padova ci sono due gruppi di cardiochirurgia non spettami a dirlo perché è autoreferenziale e l'autoreferenzialità è sempre fastidiosa che però lavorano bene diciamo così sia con l'adulto che con il paziente pediatrico che quindi hanno un grosso expertise sia per quanto riguarda le cardiopatie congenite in età pediatrica sia per quanto riguarda le cardiopatie chiusite e quindi Padova per i cardiopatici congeniti adulto può diventare assolutamente un centro di riferimento nazionale certo e torniamo alla prevenzione i buoni consigli sono sempre gli stessi lei come è nel corso della sua esperienza lavorativa si è accorto che le persone sono più attente si è accorto sicuramente l'informazione fatta ad esempio a livello televisivo piuttosto che a livello di grossa informazione chiaramente è impattato in maniera significativa quindi oggi sicuramente soprattutto le giovani generazioni sono più attenti al tipo di alimentazione all'esecuzione di un'attività fisica all'evitare alcuni comportamenti o abitudini a rischio pensiamo solamente al fumo o al bere e quindi sicuramente c'è una maggior ricettività da parte dell'utente paziente che mi permetta di chiamarlo così nel cercare di modificare e controllare le proprie abitudini di vita per cercare come dire di ridurre poi l'impatto di patologie che ritrovano in errate abitudini di vita una possibile compartecipazione noi che facciamo spesso cronaca ci accorgiamo che c'è molto alcol diffuso tra i ragazzi molto più di una volta probabilmente anche questa ha un'influenza decisamente negativa sicuramente se uno non riesce poi a controllare nell'avanzare dell'età cioè più l'alcol che il fumo o come diciamo che il fumo naturalmente direi che è limitare sullo stesso piano non possiamo dire che qualche cosa fa più male dell'altro è chiaro che colpisce organi in maniera diversa patologie in maniera diversa patologie oncologiche piuttosto che le patologie epatiche le trasmissioni di infezioni però sicuramente sono comportamenti non ottimali avevamo parlato noi qualche settimana fa di obesità c'è stato uno studio dell'università di Padova che diceva i padovani si pensava che fosse un problema superato quello del mangiare troppo ovviamente l'obesità legata al cibo non quella poi legata a disfunzioni fisiche anche l'obesità è un grosso problema quando si presenta un paziente che ha dei grossi problemi di peso immagino che è un grosso problema anche per l'intervento cardiochirurgico è chiaro che poter operare un paziente che non è obeso che ha come dire una superficie corporea adeguata per quanto riguarda l'altezza del paziente stesso semplifica anche l'intervento cardiochirurgico non tanto in fase di esecuzione dell'intervento ma per la ripresa post-operatoria del paziente stesso è chiaro che se un paziente ha la sua struttura fisica è un paziente che potrà mobilizzarsi velocemente scendere dal letto spettorare tossire respirare in maniera più appropriata rispetto a un grande obeso rispetto a un paziente sovrappeso che naturalmente ha molto più difficoltà a muoversi a mobilizzarsi quindi questo rende il periodo post-operatorio sicuramente un pochino più a rischio di complicarsi per infezioni o per altre problematiche su questo punto l'atteggiamento psicologico ha la fase post-operatoria cioè il muoversi subito il cercare di rimettersi subito in piedi ha un effetto sicuramente positivo per i pazienti cioè questa è una fase molto importante cioè quello di sentirsi subito un po' meglio è possibile questa cosa o bisogna stare a letto bisogna stare tranquillo per molto tempo la mobilizzazione dopo l'intervento anche perché noi operiamo il cuore non operiamo le gambe quindi il paziente non ha nessun motivo di tipo osteo articolare a non muoversi o alzarsi dal letto il timore a volte dei pazienti che hanno paura così nell'immagine in area collettivo che muovendosi o nell'immediato periodo post-operatorio i punti di sutura sul cuore possano cedere ma queste sono assolutamente come dire delle non verità l'importante è quello di mobilizzarsi soprattutto per garantire una ginnastica respiratoria adeguata ed evitare quindi ad esempio i sovrapporsi di infezioni respiratorie e a tutt'oggi naturalmente ha un grosso impatto il tentativo di sviluppare nuove tecniche chirurgiche che hanno un'aggressività non solamente in termini di dimensioni della cicatrice quindi ridurre le dimensioni della cicatrice che era quella che una volta era chiamata chirurgia mini-invasiva oggi proprio a Padova abbiamo coniato un nuovo termine che stiamo come dire diffondendo nel mondo cardiochirurgico non solo nazionale ma internazionale che è la cardiochirurgia micro-invasiva che vuol dire non solamente una riduzione delle entità dell'incisione chirurgica ma la possibilità di eseguire interventi come abbiamo fatto recentemente senza utilizzare la circolazione extracorporea e senza fermare il cuore quindi a cuore battente utilizzando delle sedi di ingresso come ad esempio la punta del ventricolo sinistro l'apice del ventricolo sinistro per entrare dentro il cuore per entrare all'interno del cuore e sostituire o aggiustare delle valvole cardiache recentemente ha avuto anche un certo risalto così sulla stampa prima specialistica perché naturalmente prima l'abbiamo pubblicato sulle riviste Circulation che è la bibbia dei cardiologi mondiali e poi ha avuto un certo ritorno anche mediatico un intervento di correzione di una sostituzione valvolare a ortica e riparazione della valvola mitrale eseguito in un paziente anziano senza aprire il torace da un piccolo taglietto nel torace e nel mitorace di sinistra entrando con un catetere dalla punta del cuore si è riusciti a sostituire la valvola a ortica e ad aggiustare la valvola mitrale adesso non entro nel dettaglio tecnico però questo ha permesso un intervento con una tecnica che noi abbiamo definito appunto microinvasiva perché non è utilizzata neanche la circolazione estracorporea che soprattutto l'impaziente anziano se si riesce ad evitarla naturalmente è tanto meglio quanto tempo ci vuole per riprendere una normale si può parlare di normalità si torna ecco si torna alla normalità dopo un intervento no non si torna alla normalità perché tornare alla normalità dovrebbe tornare alla condizione di partenza prima dell'intervento chirurgico si torna a una miglior qualità di vita quindi non è la normalità se prendiamo per normalità la normale attività di vita della persona allora si è corretto si torna alla normalità però si sta meglio dopo l'intervento perché naturalmente se abbiamo corretto una valvulopatia cioè una valvula che perdeva o che era stenotica che era troppo stretta o se abbiamo corretto una coronaropatia portando del sangue con un bypass a vale di una coronaria ostruita o fortemente stenotica è chiaro che il paziente non ha più i disturbi come la dispnea la difficoltà a respirare sotto sforzo o l'aggina quindi il dolore toracico a riposo sotto sforzo e quindi sicuramente una miglior qualità di vita ecco possiamo ricordare brevemente insomma quali sono i segnali che il nostro corpo perché i medici di noi stessi chiaramente siamo noi e quindi dobbiamo individuare e capire quali sono i dolori che possiamo sentire che ci possono indurre a andare da un cardiologo quali sono i dolori ce li può dire lei che possiamo individuare allora è sempre un pochino pericoloso quando si dicono quali sono i sintomi che non avverte perché poi uno dieci minuti dopo li avverte li a tutti quanti però sicuramente sintomi importanti significativi i pazienti li avvertono e per quanto riguarda le malattie cardiache sono soprattutto quella che tecnicamente viene chiamata la dispnea cioè la difficoltà di respiro la mancanza di respiro quando si fanno degli sforzi ad esempio uno si accorgeva che prima saliva una rampa di scale o faceva un certo tratto senza senza avere difficoltà di respirazione improvvisamente si rende conto che è più stanco l'astenia questa facile stancabilità oppure gli manca un pochino il fiato quando fa la stessa rampa di scale che fino a qualche mese prima percorreva senza nessun disturbo quindi la facile affaticabilità la mancanza di respiro il dolore anginoso che è tipico delle coronaropatie cioè questa sensazione di morsa al petto magari irradiata anche alla mandibola al giugno oppure al braccio che potrebbe essere una spia di una malattia delle arterie coronarie quindi questi sono i sintomi abbiamo assistito abbiamo visto un ultimo caso mi pare proprio ieri di ragazzi giovani che fanno sport e improvvisamente crollano in campo a causa di un infarto si tratta di ragazzi che spesso hanno fatto delle visite sportive quindi insomma che dovrebbero essere abbastanza accurate e secondo lei può sfuggire qualcosa cioè esiste veramente un infarto imprevedibile nella vita delle persone? Beh a volte in quelle condizioni nella realtà ci sono delle anomalie nel decorso delle arterie coronarie che possono determinare oppure di problemi aritmici che poco hanno a che fare con le arterie coronarie ma che interessano il sistema elettrico del cuore E il medico sportivo se ne accorge o non se ne accorge una visita accurata? Allora la medicina è tutto tranne che è una scienza esatta in medicina purtroppo 2 più 2 non fa 4 però un'attenta prevenzione un attento screening valutazione degli atleti naturalmente permette di identificare in anticipo questo però chiaramente come ripeto non tanto l'errore perché l'errore presuppone che naturalmente ci sia qualcosa che non abbia funzionato a volte non tutto è così facilmente screenabile è così facilmente identificabile Certo comunque andare da un medico che fa una visita accurata e che tiene dentro il paziente per un'ora fare tutti gli esami sotto sforzo ci si aspetta che sia un po' più attenta e precisa rispetto a tante visite molto veloci a cui i ragazzi i ragazzini vengono sottoposti Su questo sono perfettamente d'accordo con lei perché non è solamente una questione di una visita accurata ci sono tutta una serie di indagini strumentali che aiutano il medico poi nel porre diagnosi nel prevenire eventi catastrofici C'è una bella responsabilità delle società sportive immagino anche del medico che poi firma esatto quindi questo devo dire che già è di cautela perché naturalmente il medico sportivo nel momento in cui autorizza all'attività agonistica un atleta in qualche modo se ne assume la responsabilità soprattutto per il sistema italiano che è leggermente diverso poi dagli altri sistemi Certo sta lavorando ad un progetto in questi giorni che vi sta impegnando un progetto particolare o state appunto sviluppando questa Ci sono questi due progetti ai quali stiamo lavorando che sono da una parte lo sviluppo del cuore artificiale meccanico e dall'altra lo sviluppo di un cuore artificiale biologico tornando a quanto vi dicevo prima sulla possibilità di rimuovere tutte le cellule da un cuore e poi ripopolarlo con le cellule del potenziale ricevente sono due progetti molto corposi molto costosi dal punto di vista dell'investimento Parliamo di costi perché spesso non si ha proprio la percezione dei costi rispetto a questo quanto costa un cuore artificiale diamo una cifra Quanto costa il sistema sanitario nazionale un sistema di assistenza ventricolare e un cuore artificiale costa tra i 60 e gli 80 mila euro quanto costa sviluppare quanto abbiamo stimato che possa costarci tentare di sviluppare un cuore artificiale italiano parliamo di circa 50 milioni di euro che non sono cifre enormi se pensiamo No, non sono sempre enormi però ci rendono abbastanza bene l'idea di quello che serve e i fondi per la ricerca come siamo? È un tasto dolentissimo È un tasto dolente perché naturalmente i fondi per la ricerca sono dei fondi messi a disposizione da enti istituzionali e poi naturalmente servirebbero fondi messi a disposizione ad esempio da istituzioni private però le istituzioni private difficilmente in genere al di là delle fondazioni delle banche piuttosto che delle casse di risparmio che hanno come dovere istituzionali quello di investire sul territorio anche nella ricerca se pensiamo a fondi di investimento naturalmente devono avere un ritorno in qualche modo In questo caso il ritorno non è immediato ma insomma c'è la malattia cardiaca Certo il ritorno però ad esempio i fondi di investimento ragionano con dei ritorni in tempi molto brevi dai 3 ai 5 anni dell'investimento che hanno fatto e quindi a volte è difficile riuscire poi a coagulare interesse da parte di questi enti Cosa possiamo fare noi? Abbiamo pochi secondi Cosa possiamo fare noi? C'è un lotto per mille per esempio la ricerca? Questo potrebbe essere quello che si chiama crowdfunding la raccolta sulla da parte dei cittadini questo potrebbe essere un'idea che potremmo percorrere Certo Bene professore noi siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata noi la ringraziamo per essere stati con noi la richiameremo ovviamente quando ci saranno interventi importanti come quello che avete fatto è tutto per questa puntata di Linea Diretta grazie per essere stati con noi arrivederci arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti